Gli accertamenti hanno permesso di verificare che gli autori scendevano le loro vittime, selezionandone soprattutto tra persone indifese e anziane. Si appostavano nei pressi dei bancomat, attendevano che le vittime digitassero il codice segreto per poi intervenire e affrontarle anche con violenza e procedere quindi ai preglievi della somma massima erogabile. Gli accertamenti sono tuttora in corso al fine di verificare se gli autori siano responsabili anche di analoghi episodi accaduti in altre province. Raccomandiamo pertanto la massima accortezza nell'approcciarsi ai preglievi bancomat, quindi verificare se ci sono persone sospette nei pressi, evitare in luoghi isolati e ove possibile farsi accompagnare da un'altra persona.